Lega Pro, recupero della quinta giornata che era stata annullata la partita tra Propatria e Novara a causa purtroppo della scomparsa del direttore sportivo del Novara. Adesso il Novara ha un nuovo direttore sportivo che è Boveri, recupera contro la Propatria, passa in vantaggio, viene raggiunta nel primo tempo, il primo tempo termina 1-1, la gara termina 1-1, il Novara si porta 6 punti in classifica e la Propatria ha 5 punti rimanendo comunque invischiate nelle zone basse della classifica. È spiacevole sempre commentare gli episodi della scomparsa comunque di un dirigente, però l'importante è che la partita sia stata recuperata, sia finita al migliore del modo e non ci siano stati problemi e ci sia stata da parte delle due società la possibilità di muovere la classifica. Vi ringrazio sempre per seguirmi, vi invito a cliccare in basso a destra e iscrizione gratuita e potrete dire liberamente la vostra sullo sport. Ciao!